fra poco il vongolaio viene sullo scogli anzi sugli scogli sta proprio tranquillo e guardate ma siamo a zapponite bellissimo ora chiamiamola capinieri di porto che ci dice grazie per la segnalazione continui così che domani quelle vengono ancora più vicino fra poco vengono sulla riva stanno a 40 50 metri dalla riva tutto regolare proprio incuranti non se ne fregano niente rovinano i fondali e alla fine ci mangiamo i soldi perché poi non c'è più niente da prendere vergogna dopo vergogna e le istituzioni dove sono a pensare soltanto alle feste vuote vergogna